Ecco poi dove chi sei in traio lì. Ah la frego. E' non so buono dimenticare i urli e i botte che l'aveva qui in casa. Sentia il putteo urlare, sentia quando mi diceva basta, basta, sapete che gli ha dato le botte perché gli ha dato le pedate e qua stamattina gli diceva ma forse è costa. Una volta in casa un uomo è entrato nella stanza della signora tappandole la bocca. Un altro è andato dal figlio Mario mentre uno rovistava ovunque, due fuori facevano da palo. Stai calma, stai calma che vedrai che non succede niente. Dicevano. Mi diceva succede sì ma se tu non mi dai quello che ti dico. Dico vada guido, se mi permetti che non tocchi il mio figlio ancora, dico avevo tutte e due fede, se proprio qui è oro che no che no. Avevo queste guido una, due questa è mio mario, questa è mia. Mi diceva no, ora mi ha rubato la catenina che è la foto del mio marito. Foto scattata nel giorno del loro sessantesimo anniversario e che ora non c'è più. Poi con tanti, circa 3000, nascosti in un cassetto per le emergenze, mentre il figlio tentando di reagire è stato colpito. Un incubo, anche perché i ladri erano già entrati in casa qualche giorno prima, una vicenda su cui i carabinieri stanno tentando di far luce. Grazie.